Io ho chiesto a Koji, ma chi è? Mia Martini? Mia Martini? Ma come? C'è Mia Martini e noi stiamo qua. Sono andato da lei quasi con reverenzione, in ginocchio insomma. E lì è cominciato un rapporto, lei è rimasta, pensa, tutto più di un mese con me a farmi i cori. Il primo album, Siamo Meridionali, ha tutti i cori fatti da Mimi. E' chiusa a fare.